Con la presente si comunica formalmente l'impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro in essere a decorrere dalla data odierna. Ci preme ringraziarla ufficialmente per la sua attività sin cui svolta, anche se per le predette ragioni siamo spiacenti di doverla licenziare. Sono alcuni dei passaggi della lettera che Customer2Care, l'azienda che gestiva in subappalto la commessa Wind3, nel call center del centro storico dell'Aquila, ha inviato ai suoi lavoratori. Un duro colpo per 157 persone che da un momento all'altro non hanno più un'occupazione. Dopo proteste, lettere alle istituzioni, tavoli di concertazione e viaggi a Roma per cercare di trovare una soluzione, alla fine sul destino dei lavoratori ha avuto la meglio la diatriba tra le due aziende coinvolte nella commessa, Contact Center Sud di Battipaglia e la subappaltata Customer2Care. Una diatriba su cui ieri Customer2Care ha scritto la parola fine, inviando una lettera di poche righe ai dipendenti. Un epilogo che tuttavia ci si attendeva, dato che la trattativa è in corso per trovare una soluzione ai contrasti tra le due aziende, è fallita la settimana scorsa, il 6 marzo, quando la CC Sud, dopo aver lasciato il tavolo di confronto, in una PEC indirizzata ai sindacati si è detta libera dagli impegni presi con le istituzioni e le organizzazioni sindacali, facendo saltare l'accordo che sembrava quasi raggiunto. E adesso, per i lavoratori che sono già fermi dal 12 febbraio, quando si è aperta l'avvertenza con la revoca del contratto di subappalto, all'orizzonte c'è soltanto la Naspi, in attesa che le istituzioni battano un colpo, come dicono i sindacati, molto critici nei loro confronti e che anche la committente Wind3 si pronunci. Il loro destino è in mano a Wind. Intanto gli abbiamo detto di recarsi presso i patronati o fare domanda tramite PIN all'istituto della Naspi. Seconda cosa, stiamo cercando di intervenire in maniera concreta su Wind per fare in modo che questa situazione possa essere risolta nel migliore dei modi. Siamo sulla situazione in essere e cercheremo di fare del tutto affinché i posti di lavoro vengano salvaguardati. Certamente ci serve anche l'ausilio, l'aiuto e le risposte concrete da parte delle istituzioni che facciano la loro parte, soprattutto sul committente Wind3, tale che possano essere garantiti i posti di lavoro all'Aquila.